Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video guida, io sono Altaigr e oggi vi mostrerò dove si troveranno tutti gli automi di Kalus per ottenere il trionfo Ascolta con Calma. Se il video vi sarà d'aiuto e lo avrete trovato utile vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace ed iscrivervi al canale così da potermi supportare. Come ho detto nei precedenti video questa sarà la guida definitiva alla scoperta degli automi di Kalus, in descrizione vi lascerò anche il singolo minutaggio con la descrizione e qui nel video vi metterò le scritte in quale recensione si trova l'automa di Kalus. L'unica cosa che dovete sapere è che si troveranno nelle recensioni e non saranno mai due in una singola recensione ma uno in ognuna delle sei. Una volta che li avrete trovati e ascoltati tutti otterrete il trionfo Ascolta con Calma. Detto questo spero di esservi stato di aiuto, nel caso in cui non abbiate capito qualcosa o non vi sia stato chiaro scrivetemelo nei commenti e io vi aiuterò volentieri. Come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema destini 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e vi auguro una buona ricerca agli automi di Kalus. Ciao ragazzi! Grazie! 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 Grazie a tutti. La seconda decisione è vicina. Procediamo come desideri, comandante. Ma qualsiasi cosa sentiate, andate avanti. Ricevuto. Grazie, Alice. Impostate gli amplificatori, tagliate la connessione di Kalus. E fate attenzione. Vedo la tua nuova... Strato. Mentre le viscere succombono a questa trasformazione... si indeboliscono per sempre. La morte di Akin è stata la frattura che ti ha riabilitato agli occhi del viaggiatore. E io, la debolezza che porterai per sempre. Il blocco è stato rimosso. Preparatevi a quello che abbiamo scatenato. Il blocco è stato riuscito. L'unno Rossa. Il vostro regione rossa e guidò un'armata contro l'ultima città. A dimostrare che il destino può essere sfidato e sottomesso. Pensavo di poterlo fare. Ma non l'hai fatto, hai usato parole al posto del fuoco Pensevo di averti privato dall'indulgenza di Kalos Era il mio scudo a proteggere la nostra gente che fuggiva da Torobator Il mio! Ti sei ritirato Morte prima del disonore Kayatol Un tempo lo sapevi Liberammo i Caval dalla stagnazione di Kalos Ora i custodi delle leggende elencano i mondi persi Non aggiung- Non aggiungo le leggende elencano